Siamo qua tra amici riminesi, io non conoscevo la Notte Rosa, ma con il blog Do Opinioni a Colori è stata un'occasione buona per venire a conoscerla, anche perché da quando l'ho saputo ho scoperto che a Milano molti la conoscono, però sinceramente non l'avevo mai vista. Mi sembra che tu ne sappia qualcosa di questa Notte della sua origine, ce lo puoi dire. Prima vi chiedo di presentarvi brevemente per i nostri blogger. Io sono Andrea Pollerini, mi occupo di eventi e di tribù, insegno eventi allo Iulma di Milano e mi occupo di questa costa da quando sono nato, perché sono nato da queste parti. La Notte Rosa ha un'antesignana che si chiamava Gradisca, che era la festa del sostizio d'estate, nata a Rimini nel 1993, in occasione del centocinquantenario della fondazione dell'estabilimento dei bagni di Rimini, e poi proseguita un paio d'anni, poi è cambiata nelle forme. Era la festa di apertura dell'estate, ma anche la festa che ci aveva consentito di sdoganare l'uso della spiaggia dopo che per un po' di anni la spiaggia era diventata uno spazio off-limits. Aveva le caratteristiche fondamentalmente della Notte Rosa, un po' più povera, nel senso che aveva meno risorse, quindi era prodotta sostanzialmente dagli stabilimenti balneari, che facciano da mangiare con un contorno di spettacoli sostanzialmente. E questa poi si è trasformata come Capitan Space nel caso degli eventi, poi sono nati in giro per l'Europa tutta una serie di fenomeni che si chiamavano Notte Bianche, la prima è stata la Notte Bianche dei Musei di Berlino e poi dopo la Nuit Blanche di Parigi, e poi quindi questa riviera ha ripreso sul tema della Notte Bianca questo evento, chiamandolo rosa perché rosa è l'elemento che lo caratterizza rispetto a tutte le notti bianche, perché mentre la Notte Bianca significa notte in bianco, Notte Rosa è qualcosa di più, cioè rosa è il colore che dà il senso di appartenenza all'evento. per cui vedi la maglia, con una maglia, con un cappello, con una cosa, molto semplicemente si entra a far parte della festa, si connota l'idea che tu fai parte della festa. E dal punto di vista dell'intrattenimento, Claudio Villa ha qualcosa da dire perché mi risulta che in Riviera hai lasciato il segno e continui a lasciarlo, tu cosa ne pensi? Se ti riferisci a quelle che erano le cose che facevo nelle strutture precedenti, io per 18 anni mi sono occupato di Aquafan come direttore generale e di tutti i parchi in buona sostanza della Romagna, in questo senso se tu parli di intrattenimento per me era cercare di lavorare nell'ambito delle puttanate in maniera destrutturata, adesso la stessa cosa lo faccio a livello nazionale per diverse aziende in maniera però strutturata perché lì devo essere in grado di certificare anche il processo, prima lo facevo in maniera estemporanea poi costruivo il percorso per dargli una giustificazione logica. La Notte Rosa io credo che sia, a differenza di quelle che sono le valutazioni che fanno gli addetti ai lavori, è in buona sostanza una finestra di quello che mediamente accade in questa Riviera, io credo che sia forse il più grande spot per far capire verso l'esterno che in questa destinazione trovi quotidianamente queste cose, naturalmente qui c'è una grossa concentrazione però il racconto deve essere venite qua, qui portate la vostra fiducia, è un luogo dove comunque trovate certezza e potete venire tranquillamente tutti i giorni. Se qualcuno pensa di dar risposta alla quantità di persone che frequentano questi due giorni dopo due minuti diventa un elemento di debolezza perché qualcuno può dire ha portati via qualche giorno prima, qualche giorno dopo e di conseguenza è una valutazione dal mio punto di vista sterile. Dopodiché c'è un altro passaggio che è importante che forse è l'eccesso dell'ipocrisia del nostro territorio, nel senso che siamo riusciti a mettere a regime una cosa che tutti fanno dove mediamente ogni realtà è in concorrenza con l'altra perché comunque c'è uno spirito campanilistico imbarazzante e sotto questa matrice viene fuori tutto quello che mediamente nessuno vorrebbe mai fare. Questa forse è una chiave di lettura che il nostro territorio riesce a dare da delle angolature veramente talvolta imbarazzanti. Cioè la notte rosa c'è un'unione di intenti dove un secondo dopo non si riesce neanche a decidere dove è meglio fare una ruota, dove è meglio fare un palazzo e dove è meglio fare in maniera coordinata certe decisioni importanti. Faccio una domanda al professor Pollarin. Io vengo da Milano, mi occupo come sai di eventi legati al design in cui il coordinamento fra pubblico, privato, zone e anche questi individualismi fra aziende e anche organizzatori di eventi è al massimo livello. Noi ci lamentiamo della mancanza di sinergia e di governance di questi eventi rispetto al territorio. Qua c'è tutta la riviera impegnata ma è solo forma o c'è un coordinamento effetto? Ora sì, la notte rosa come la design week è un evento 2.0 fondamentalmente. C'è un evento generato dagli operatori. La differenza è che nella design week c'è un motore che è il salone del mobile che è una fiera e qui c'è una governance invece che è l'ente pubblico che in qualche modo svolge un'attività sostanziale di coordinamento diciamo così nel quale poi possono intervenire gli operatori apportando il proprio singolo contributo. Sono due modelli simili ma il modello di governance differisce da questo modello. Milano è più anarchica, forse però anche più vitale per questo motivo qui. Questa è più sovietica e quindi più ordinaria. Grazie. Tu hai suggerito la possibilità anche di un'altra visione o di un'altra ricetta? No, più che ricetta io credo che purtroppo non siamo all'epilogo di questa crisi. Mi ricordo che nel 2008 feci un documento per gestire la crisi a tutti gli effetti come un mercato perché non è più un'iniziativa, una realtà estemporanea ma è strutturata. La crisi va affrontata come un mercato e come tale va capito da quale angolatura lo puoi parare, affrontare, gestire, governare, stimolare. Io credo che questa sia forse la fase più bassa e più importante di questa crisi dopodiché credo che ci sia una curva che tende a rialzarsi. Noi ci troviamo di fronte a un'estate complessivamente difficile dove la gente arriva a spot i fine settimana o tramite degli eventi dove tu perché vivi una passione devi venire in quel luogo lì. Sto parlando dei master di nuoto, sto parlando di tante cose che vengono fatte nello specifico che interessano proprio le leve emotive. Io credo che anche l'agosto sarà abbastanza difficile nei termini di fruizione. Il poter pensare di far venire, a parte che è stata la variabile terremoto che ha dato il colpo di grazia, di far venire le persone che vivono addosso i nostri 30, 40, 50 chilometri a delle condizioni di estremo favore, a vivere il proprio territorio, la propria spriaggia come un frequentatore, a delle condizioni economiche abbordabili potrebbe essere l'idea di aggiungere non tanto fatturato ma presenza e frequentazione ad un'estate che sicuramente sarà difficile da far chiudere in termini di conti e di affluenze. Grazie, adesso un intervento destrutturato rispetto a quelli fatti finora. Vedo che hai al collo un gioiello molto particolare. Ti presenti, ci dici cosa fai, però parlaci anche di come vivi tu la notte rosa. Io mi chiamo Erika Morri, faccio la designer, faccio gioielli concettuali in cavi elettrici, infatti questi sono connessioni, sono RJ e per chi può riconoscere quello che è il tocco da un mondo all'altro, infatti secondo me il concetto è la nostra energia e la stessa dell'energia elettrica e facciamo muovere mondi diversi ed energie diverse. La notte rosa per me cos'è? Il rosa nella filosofia orientale è l'accoglienza, di conseguenza Rimini è sempre stata madre, sorella, compagna di giochi di tantissimi di noi da generazioni e il fatto di fare un evento che vada dalla sera alla mattina è fondamentale perché ognuno può fruirne come lo desidera, può venire all'alba e ascoltare un concerto, può stare a ballare fino alla notte, però quello che conta è che troverà altre persone che come lui condividono la voglia di viverla, di non chiedersi ma tu chi sei, che lavoro fai, l'importante è semplicemente un momento di leggerezza in questo stato che ne ha bisogno. Grazie, adesso velocemente a tutte e tre una provocazione in pochissime parole per i nostri blogger, il tema naturalmente è la notte rosa. Più che la notte rosa mi piacerebbe portare come provocazione un dato di fatto, sul nostro territorio è cambiato il concetto di frequentazione perché i turisti vivono questo territorio qui come un prolungamento di casa propria, non si viene in vacanza, si viene a continuare a vivere un interesse che per certi versi hai spezzato perché poi torni a vivere nel paese d'origine. In questa situazione gli artisti che hanno preso casa in questo territorio sono quelli che mediamente hanno vissuto con noi e hanno deciso di comprare un pezzo della loro esistenza. Ecco, io credo e chiedo a questi nuovi cittadini, a Riccione ce ne sono veramente una quantità industriale partiti dal rapporto con Acquafan, di incidere anche in queste nuove logiche di modifica della città perché hanno delle esigenze sicuramente come le nostre ma una sensibilità talvolta molto più accentuata. Credo che bisogna beneficiare non solo della loro presenza, non solo delle loro sollecitazioni in termini di fastidio ma anche in quelle di interessi e di un vissuto che possono portare addosso questa destinazione. Io non so se è una provocazione, io credo che la lezione della Notte Rosa sia che il turismo in questi anni è cambiato da momento di sospensione dell'identità a momento di ricerca dell'identità e la Notte Rosa è lo stadio successivo, che è quello del turismo come luogo delle relazioni. Noi facciamo il turismo per trovarci con i nostri simili, con quelli simili a noi e questa è la lezione che riguarda il sistema paese, noi dobbiamo lavorare su un turismo che costruisce relazioni fra persone. In Destruttore Rese, voi siete rosa dentro, quindi siete accoglienti dentro, avete bisogno degli occhiali della Notte Rosa per esserlo?